L'atmosfera a uno mattina in famiglia sembra essere molto tesa, come dimostra la lite avvenuta durante l'ultima puntata. La lite è avvenuta durante la rassegna stampa settimanale presentata da Gianni Ippoliti. Mentre parlava della separazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Tiberio Timperi ha sospirato. Ippoliti se n'è subito accorto, e l'ha fatto notare. È scoppiato il caos, culminato con l'abbandono improvviso della trasmissione da parte di Ippoliti. Non è la prima volta che a uno mattina si verificano situazioni spiacevoli. Lo scorso settembre, Timperi ha inviato in diretta una lettera raccomandata alla collega Monica Setta. Quest'ultima ha prontamente risposto. D'altra parte, non è un segreto che il rapporto tra Timperi e la Setta non sia dei migliori. Lo stesso conduttore, in un'intervista, aveva sottolineato che con la conduttrice c'è un legame professionale, ma non amichevole. Nel frattempo, Timperi si prepara a prendere il timone di uno mattina estate, dove sarà affiancato da Serena Autieri. Il programma prevede anche un piccolo spazio, in cui interverrà Gigi Marzullo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.